Buona giornata amici oggi è mercoledì 3 novembre 2021 benvenuti alla rassegna stampa di Fano tv come sempre diamo un'occhiata ai giornali con cronaca locale il resto del carlino e il corriere adriatico prima però passiamo a vedere la pagina del santo del giorno e del meteo oggi è santa silvia santa silvia una nobile romana era moglie del senatore gordiano e fu anche madre di papa gregorio primo era nota e fu subito oggetto di culto per la sua vita di tipo claustrale ed è dedica alla preghiera per quanto riguarda invece le previsioni del tempo vediamo che la situazione è peggiorata rispetto a ieri vediamo il meteo infatti vediamo ci sono molte nuvolette sparse per tutta la regione si prevedono piogge intense più insistenti però nelle zone interne e nella scolano qualche schiarita in più sul pesarese le temperature massime uscideranno tra i 16 e i 19 gradi i venti ispireranno sulle coste con media intensità da sud sud est e sull'interno invece con debole intensità da sud ovest le temperature sono in calo e veniamo dunque le prime pagine dei quotidiani questa mattina a partire dal corriere adriatico e anche il resto del carlino insomma evidenzia piena pagina un titolo importante quello che dell'aumento del costo della vita soprattutto per quanto riguarda i beni essenziali la pagnotta cioè il pane si fa più salato da gennaio pane più caro in provincia un aumento medio del 20 per cento ritocchi anche per dolci e brioche la cof commercio la cna e la conf artigianato affermano prezzi bloccati da troppo tempo i fornai ormai non ce la fanno più ancora altre notizie in sintesi sul corriere adriatico la cronaca preso con la coca era per lo sballo di halloween a fano va in fiamme il centro caritas nella chiesetta di centinarola mentre a pesaro i medici di famiglia volontari per i turni del servizio notturno e questo fa parte di quel problema della scarsità dei medici ingabbiati dal cantiere ma salvatici il natale parlano così i commercianti di via almerici a pesaro per quanto riguarda i lavori a palazzo antonioli che verranno protratti fino al 23 dicembre almeno così si spera perché poi arriva il natale ma quello che è più importante per i commercianti è il periodo antecedente per quanto riguarda invece il resto del carlino vediamo che anche qui il titolo di apertura è dedicato al pane la grande foto notizia il pane sarà salato da gennaio un aumento del 20 per cento invece il titolo di apertura in prima pagina green pass anche per gli studenti è una richiesta questa del preside del liceo rossini il preside scusate rossini del liceo scientifico stanco di lasciare a casa i vaccinati a causa di pochi positivi e ancora per quanto riguarda fano il collezionista di santini ne ha 110 mila insomma una collezione molto molto fornita e poi l'incendio a centinarola faretto al caldo sui vestiti l'ex chiesetta va a fuoco salasso carburanti questo è un altro aspetto del caro vita salasso carburanti per clienti e gestori sempre a secco così chiudiamo dicono anche i benzinai e poi i dati INAIL evidenziano ancora un aumento per quanto riguarda le malattie nervose lo afferma la cgl e boom tra i lavoratori per quanto riguarda lo stress da lavoro per lo sport vl mancano i punti l'ex nba pargo a napoli e poi un altro un altro articolo un altro titolo sulle strade più sicure fondi per 23 comune e vediamo a chi toccheranno i 12 i 2 milioni che sono stati votati dalla regione restiamo sulla pagina del resto del carlino per così evidenziare i titoli all'interno e vediamo come l'approfondimento sul caro pagina è dedicato sul caro vita è dedicato al pane da gennaio un rincaro del 20 per cento la pasticceria invece aumenterà del 25 anche la colazione al bar sarà più cara i panificatori prezzi fermi da tre anni la farina è raddoppiata daniele malandrino dichiara io soltanto di bolletta elettrica pago in un botto 3000 euro al mese e ci sono poi le giustificazioni ovviamente dai produttori dai commercianti per quanto riguarda questo aumento dei prezzi ma l'aumento dei prezzi interessa anche l'autotrasporto la beffa incentivi per il metano il metano è stato raddoppiato è una dichiarazione di battisti della cna così volevamo recuperare gli investimenti ma ci siamo trovati con aumenti fortissimi poi c'è anche il problema additivo per il gasolio la ditta che lo produce ha deciso di smettere i costi sono troppo alti e qualcuno comincia a così a evidenziare la carenza di carburante e su questa foto notizia diciamo così abbiamo anche alcuni prezzi su tre distributori campione l'esso di via ponchielli l'eni di via giolitti e il metano della strada di monte feltro e vediamo che l'esso ha un prezzo di benzina di 1,679 mentre il diesel costa 1,559 mentre l'eni di via giolitti ha un prezzo ancora più alto per la benzina 1,709 il diesel 1,589 mentre il metano sulla strada del monte feltro costa 1,717 la benzina 1,587 il diesel e 1,899 il metano un prezzo veramente molto molto alto per chi pagava poco poco meno poco più di un euro allora carburanti alle pompe un pianto unico il salasso è servito per i gestori e i clienti giriamo pagina e vediamo l'articolo che è stato richiamato in prima pagina per quanto riguarda il boom delle malattie nervose e muscolari i dati INAIL elaborati dalla CGL evidenziano come su scala regionale nel confronto tra l'anno scorso e quest'anno le prime sono aumentate del 39 per cento le prime sarebbero le malattie nervose e muscolari le seconde invece del 49 uno dei pochi settori invece dove i dati sono positivi è quello legato all'agricoltura dove gli infortuni sono addirittura calati sono passati dagli 890 del 2020 ai 693 del 2021 nei due comparti principali dell'industria provinciale cioè quello della meccanica e quello del legno i dati dicono che la crescita è stata del 23,4 per cento Roberto Rossini che è il segretario provinciale della CGL dice il caso ortopedico è legato ai lavoratori che devono sollevare il peso e di peso le persone gli infortuni sono schizzati quelli del settore trasporti e magazzinaggio con un più 51,7 per cento quasi della metà Palace cantiere ancora bloccato si parla delle cantiere di Viale Marconi il vecchio Palace che è stato fermato su un controllo degli ispettori del lavoro ed i carabinieri che hanno appunto verificato le condizioni di sicurezza però ancora non è ripartito ci devono mettere a norma i ponteggi sull'angar parla l'assessore Enzo Belloni nei prossimi giorni chiederò a che punto è lo stato d'arte anche perché c'è una data di scadenza per quanto riguarda questi lavori dovrebbero almeno realizzare le iniziative del ROF magari del prossimo anno Tessile e allarme rosso, mille in cassa integrazione Andrea Piccolo della Cigelle dichiara crollo del fatturato fino al 70% le ditte sono in ginocchio purtroppo alla crisi del mercato si è aggiunta la mancanza di materie prive questo è un problema che interessa un po' tutto il livello nazionale ma anche internazionale ed ora veniamo alle dichiarazioni del preside del liceo scientifico Marconi Riccardo Rossini sia al Green Pass anche per gli studenti il preside del liceo svela di avere 100 studenti in DAD non è giusto, afferma che i vaccinati debbono stare a casa come i non vaccinati e poi il problema delle guardie mediche scoperte c'è un appello dell'ordine ai medici oggi incontro in Regione sulla soppressione del servizio in modo particolare a Vallefoglia e Gabicce con accorpamento a Pesaro 2 milioni per strade più belle e sicure l'annuncio della Regione lo ha fatto l'assessore Baldelli che tramite bandi assegna a 23 comune i fondi nuove ciclabili, rotatori e parcheggi sono le infrastrutture che si possono realizzare con questi fondi ma Fano e Urbino restano a bocca asciutta il primo, Fano, non ha presentato i piani il secondo non è stato ammesso urla e paura ieri sotto il cavalcaferrovia nelle vicinanze della chiesa dei Capuccini c'è stato un violento litigio tra famiglie Rom poi però l'arrivo della polizia e dei vigili urbani e anche dei carabinieri riporta la karma comunque la zona viene considerata una terra di nessuno un immigrato marocchino ieri pomeriggio sotto il cavalcaferrovia per motivi avvolti nel mistero ha acceso uno scambio veramente forte di opinioni che ha richiamato sul posto due auto della polizia gli agenti con qualche difficoltà hanno riportato la calma senza aver molto capito il senso del contendere ma la scintilla può scaturire in ogni momento e in un qualsiasi giorno dato che la zona è molto critica ed è molto tenuta sotto controllo e veniamo ancora alla cronaca in cella un albanese con 90 grammi di cocaina il GIP ha convalidato l'arresto effettuato nel giorno di Halloween dalla squadra mobile di Pesaro era pronto a portare droga alle feste e secondo le indagini è stato bloccato uno dei principali fornitori dello stupefacente ha 43 anni questo albanese risiede a Monparoccio ed è stato sorpreso dalla squadra mobile di Pesaro con 90 grammi di cocaina il GIP ieri ha convalidato l'arresto ed è messo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere torna però libero invece l'intruso che ha fatto irruzione negli uffici dell'ARPAM e ha così messo in attività un estintore tant'è che si pensava ad un incendio dato la polvere e il fumo che è scaturito il giovane di 23 anni senza alcun precedente aveva forzato una porta svuotando la polvere appunto di un istintore e poi il cortometraggio contro le truffe sarà proiettato domani a Monte Ciccardo così si prova a difendere gli anziani giriamo ancora pagina e vediamo sulla pagina di Fano come si è sviluppato l'incendio nella chiesetta di Centinarola l'edificio sconsacrato era da tempo utilizzato come deposito di indumenti usati destinati alla Caritas il gestore Michele Altomeni dice dispiace soprattutto per l'inevitabile interruzione dei nostri servizi di solidarietà che cosa è successo sembra che qualche cartone sia giunto a contatto con un faretto che in quel momento era incandescente è scaturita una scintilla il fuoco si è appiccato e ha provocato diversi danni qui vedete nelle fotografie i danni della chiesetta l'entrata, la facciata tinta di nero e vediamo poi anche qualche danno all'interno e il fumo che è scaturito durante l'incendio richiamando l'attenzione di molti residenti di Centinarola pensionato travolto sulle strisce patteggia l'investitore si tratta di un uomo di 90 anni Orfeo Luzzi di Fano che purtroppo stava attraversando a piedi le strisce pedonali su via Roma è stato investito da un'auto l'impatto è avvenuto il 14 novembre del 2020 l'anziano morì 15 giorni dopo ebbene Giuseppe U di 56 anni di Pesaro è l'investitore ha patteggiato appunto con il giudice la sentenza, la sentenza che appunto è stata espressa ieri una sentenza per una pena di omicidio colposo ad un anno di reclusione io protetto da 110.000 santini ebbene dopo la collezione di Paolo del Bianco sugli aeroplani di Latta che abbiamo visto ieri sui giornali oggi il resto del Carlino pubblica un'altra collezione quella di Gianfranco De Leo che ha la bellezza di migliaia e migliaia di santini e sono anche santini preziosi alcuni vanno dall'Ottocento risalgono addirittura all'Ottocento e ce ne sono alcuni veramente molto molto belli quelli stampati sulla pasta dell'ostie dalle suore e sono veramente delle opere d'arte ricamati insomma sono bellissimi questa raccolta rappresenta per me ha detto De Leo un arricchimento culturale e spirituale ovviamente ormai è raro che nelle chiese si distribuiscono santini si trovano soprattutto nei mercanti dell'antiquariato e poi De Leo c'è anche una preferenza dice che i santia ai quali egli è più legato sono due il beato Pier Giorgio Frassati devoto alla Madonna e al Rosario e padre Leopoldo Mandic fratti Capucino di Padova che dedicò la sua vita all'accoglienza dei fedeli l'Africa chiama anche nella lotta al coronavirus prima missione per Raffaella Nannini è la figlia di Nannini che è morto purtroppo non molto tempo fa dopo la morte del padre fondatore della ONOS i progetti vanno avanti facciamo formazione ha dichiarato Raffaella per l'iscrizione al registro disabili che dà accesso ai vicini e poi ancora la cronaca tocca una ragazzina alle casse patteggia 16 mesi un sessantenne aveva palpeggiato una diciassettenne al supermercato a Fano davanti a lui davanti a lui il giudice davanti scusate davanti al giudice si giustifica chiedo scusa non ho saputo resistere ha dichiarato la vittima stava facendo la spesa con alcune amiche in un esercizio a Santosso lui ha tentato di giustificarsi dicendo che è stata una cosa incidentale però insomma tutti hanno visto che la mossa era intenzionale soprattutto così l'ha interpretato la ragazza vittima del palpeggio per San Paterniano 2.500 euro è il ricavato della serata che diverse associazioni di volontariato hanno dedicato alla memoria di Fabio Uguicioni l'estate scorsa alla BCC Arena ai gestori della mensa ha donato l'assegno raccolto durante appunto questa serata in ricordo di Fabio vediamo ancora soppressa la guardia medica Mondavio emergenza camici bianchi il presidio è il riferimento anche per i cittadini di terre roveresche resta solo pergola distante 25 chilometri un problema veramente importante questo rilevato dal resto del carlino questa mattina mentre ad Urbino abbiamo delle dichiarazioni dell'assessore Roberto Cioppi assessore al turismo che parla di una invasione di turisti però in realtà molti locali restano chiusi la marra constatazione dell'assessore Roberto Cioppi sul flusso festivo lo IAT non era aperto lo IAT e l'ufficio informazioni regionali il 30 e il 31 abbiamo però rimediato grazie al proloco gli uffici informazioni dovrebbero restare aperti soprattutto nei giorni festivi quando le presenze turiste si incrementano abbiamo anche delle notizie per quanto riguarda il territorio dell'entroterra nessuna discarica si vincoli il paesaggio nel Monte Feltro prende sempre più corpo il movimento di cittadini che si oppone agli impianti di trattamento dei rifiuti nell'altra pagina si fa esplodere il masso la Flaminia bloccata oggi i lavori sul tratto della Flaminia tra Caglie e Cantiano il botto tra le 11 e le 12 ed ora passiamo al Corriere Adriatico abbiamo già visto la prima pagina vediamo le notizie di Pesaro abbiamo la protesta dei commercianti di via Almerici il cantiere si ingabbia almeno fateci salvare lo shopping delle feste l'altra faccia delle ristrutturazioni in centro le attività sono impacchettate via Almerici i lavori a Palazzo Antonioli finiranno a ridosso di Natale insomma una via molto stretta è una via molto buia diciamo così per queste transenne per queste impacchettature che tolgono luminosità e spazio al passeggio un maxiscivolo in via Curiel attrazione da scommessa questo è il maxiscivolo che verrà realizzato per le festività di Natale commercianti sono curiosi per la novità ma anche dubbiosi sull'impatto e ci sono diverse dichiarazioni poi degli esercenti e veniamo alle pagine che riguardano il caro vita anche sul Corriere Adriatico la pagnotta si fa salata il prezzo del pane lievita aumenti attorno al 20% da inizio 2022 interesserà tutta la provincia più cari anche i dolci e le brioche e qui in questa tabella vediamo gli aumenti il pane comune da un chilo era da 2,60 passerà a 3,10 il pane comune da mezzo chilo era 3,60 passerà a 4,20 il pane comune da due etti era da 4,60 passerà a 5,60 il pane integrale aumenta fino a 6,60 la pizza da 14 euro al chilo arriverà era 12 le brioche passano da 1,10 a 1,30 dolci e altri prodotti di pastecceria subiranno un aumento molto sensibile il 25% la cocaina per lo sballo di Halloween ma i poliziotti gli fanno uno scherzetto amaro per questo per questo uomo che immerciava gli stupefacenti è stato sequestrato quasi un etto di droga convalidato l'arresto di un 41enne che resta in caccere e poi fa tappa a Monteciccardo la campagna per aiutare gli anziani contro le truffe è in programma domani pomeriggio giovedì 4 novembre alle 17 al bar Soms di via Roma 10 questo è il terzo degli incontri previsti dall'iniziativa di informazione e di sensibilizzazione alla quale partecipano esponenti di polizia locale polizia di stato e arma dei carabinieri guardia medica in cerca di volontari per tamponare turni rimasti scoperti l'ordine provinciale dei medici faleva sul senso di collaborazione degli iscritti ieri c'è stato un incontro sulla carenza un incontro nell'ambito del quale si sono detti disponibili soprattutto la direzione di area vasta i componenti della direzione di area vasta ad offrire un ristoro economico per incentivare e reperire quanti più medici di famiglia volontari o altri colleghi che operano nelle postazioni di continuità nei comuni di Fano e Urbino insomma la guardia medica è importante perché quando non è in servizio il medico di base insomma ci si può rivolgere solo a questa istituzione ancora sul Corriere Adriatico sulla pagina di Vallefoglia abbiamo come l'aumento della vita si protrae alquanto nel nostro territorio bene una nonnina è arrivata a 108 anni si tratta di Elisa Clini che ieri è stata festeggiata dal sindaco Cucchielli e da tutta la famiglia abita a Vallefoglia il sindaco l'ha omaggiato si tratta della mamma degli imprenditori edili Giuseppe Girolamo Mulazzani Casa della Salute da potenziare Ucchielli scrive di nuovo alla Regione il Presidente dell'Unione dice dalle terapie del dolore al servizio del 118 H24 Ucchielli in veste di Presidente dell'Unione torna così a scrivere alla Regione per chiedere per confermare anzi la necessità di provvedere al potenziamento della Casa della Salute ubicata nel territorio dell'Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo quale struttura di tipo A aperta alle attività programmate riconducibili al servizio sanitario infermieristico di medicina generale e di visite specialistiche a Urbino apriamo la data l'infopoiet assessore Cioppi abbiamo parlato prima sulle Carlino afferma come lo IAT gestito dalla Regione ha problemi con il personale e deve restare aperto anche nei giorni festivi a Fano via Negusanti parcheggi eliminati la strada che costeggia la caserma è un'area strategica per chi si deve recare in centro mentre poi il giornale evidenzia come ci sia l'esigenza in comune di aprire un ufficio energia lo evidenzia con una mozione Cora Fattori consigliere comunale mentre la Lega protesta per il fermo dei lavori alla Darsena Borghese ancora un articolo sull'incendio di Centinarola mentre una novità è costituita dall'apertura di una nuova farmacia a Fano si tratta della farmacia Canale Albani che sarà gestita dalla dottoressa Michela Biondini e dal dottore Emanuele Feduzzi tra l'altro sindaco di Ferminiano aprirà domani a partire dalle 8.30 sulla Valmetauro turismo Bonci ultimo atto subito summit con Varotti una scoperta per quanto riguarda il rinnovo del contratto con la Coffcommercio per la gestione dei beni culturali però Chiarabilli mette altre condizioni mentre sulla Marotta per quanto riguarda la Val Cesano abbiamo una rivelazione si tratta di un hotel rivelazione Villa Joseph la struttura di Marotta è stata votata nella top 30 italiana unica nelle marche già prediletta da Enrico Ruggeri e veniamo anche alla pagina di Senigallia la pista di ghiaccio caccia gli ambulanti trovato l'accordo vanno sul lungo fiume la soddisfazione anche per i commercianti che non dovranno pagare le luminarie di Natale invece per quanto riguarda la cronaca vediamo che il pronto soccorso dell'ospedale è senza tregua si rompe l'impianto di radiologia i pazienti ora devono essere portati nel reparto dopo un tragitto in sedia a hotelle e i tempi di attesa sono molto molto più lunghi e siamo ormai in conclusione vediamo se c'è tempo di dare qualche notizia di sport no oggi la saltiamo ne vedremo domani comunque non ci sono notizie importanti tutti sono in attesa delle scadenze di domenica prossima quando la vis dovrà incontrare soprattutto la prima in classifica e questo per il momento è tutto Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento domani alle 7 mentre l'informazione torna questa sera su Fano TV alle 20 e 30 buona giornata a Grazie a tutti.